Matteo Brambilla, ingegnere e disegnatore, ci aveva addirittura amminacciato che durante la trasmissione lui avrebbe riprodotto questo miglietto di invito perché lui ama i fumetti. Ma è così bravo? Sì, sì, sono abbastanza bravo perché mi piace fin da piccolo, ho una passione correditata da mio padre e da mio zio, entrambi i disegnatori. I fumetti, perché i fumetti raccontano una parte della realtà che vorremmo vivere probabilmente. Avevamo dimenticato, scusate, ma ho dimenticato di dire candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle. Questo movimento che ha minacciato di scuotere l'Italia, o meglio la scossa, è a Napoli invece? Questo movimento che ha scosso l'Italia è un movimento che è un unico in tutta Europa, negli ultimi anni è quello che ha avuto un'esponenziale crescita dei consensi, è un movimento di cittadini che sta crescendo perché c'è una consapevolezza che le persone che si mettono in politica possono ancora farla in un certo modo, con una certa etica. A Napoli ci crediamo di andare al ballottaggio, siamo dieci anni che esiste il meetup prima e poi il Movimento 5 Stelle a Napoli. Come sapete Napoli ha portato molti deputati al Parlamento e nel famoso direttorio... Beh, ne avete uno, non ne ha portato il vicepresidente. C'è Luigi Di Maio, Roberto Fico, Carla Ruocco... Che vengono a salutarla per finire la campagna. Vengono tutti domani alla chiusura della campagna, verranno molti deputati che sono amici, sono movimentisti della prima ora. Senti, ma torniamo ai fumetti, mi scusi, ma quale le piace? Qual è quello che le piace di più? Quello che mi piace più di tutti è Giacovitti, che non so se è antico, diciamo. Un folle da Giacovitti, bizzarro, fantascioso. Sì, mi piaceva, si firmava anche con queste lische di pesce, queste cose qua che inseriva i formaggi salumi, le persone squartate, però era un visionario e mi piaceva sia la grafica che le storie che raccontava. Ma rassomiglia un po' al movimento, visionario come Grillo. Sì, come Grillo, come Casaleggio. Come il defunto e il compianto. Vede che alla fine ci troviamo, perché forse mi sono ritrovato nel movimento, perché anche io sono... Mi piace guardare oltre, essere un visionario, ma ancorato alla realtà, però i fumetti sono ancorati alla realtà perché raccontano le storie di oggi, però danno anche una visione del futuro, una visione della realtà come la vorremmo. Senza, noi parliamo di fronte a una città che ha 300 anni di problemi. Io non so se un sindaco o un mandato possiano sufficienti per risolverli, non credo proprio. Ma sgombiamo il campo da alcuni altri luoghi comuni. Mi hanno detto che lei è tifoso della Juventus e è venuto a sfidare, è vero, la politica napoletana. Sì, sono tifoso della Juve, lo confesso. Non l'ho nascosto perché non bisogna prendere in giro le persone. Sono tifoso della Juve perché da piccolo mi sono affezionato a alcuni giocatori. Il mio mito era Gaetano Scirea, indimenticato. Venne in viaggio di nozze a Gabri. Bene. Eh beh, ci incontravamo. Devo dire che io amo il calcio, quindi sono stato tifoso anche del calcio di Maradona, perché Maradona è la poesia del calcio. Eh, lo volevate voi della Juve. Lo volevamo. Io ho confessato pubblicamente di aver comprato le Puma Maradona ai tempi, quando giocavo al campionato allievi a Monza, cercando di prendere una pillola di Maradona ma con scarsi risultati, perché il mio piede non era quello di Maradona, ma neanche paragonabile. A parte gli scherzi, io so che questa cosa del calcio non è soltanto un fatto sportivo a Napoli. Ma è un complemento sociale molto importante. Esatto, esatto. E io diciamo sul complemento sociale sono d'accordo, l'ho sposata questa causa anche venendo a Napoli come scelta di vita, rinunciando anche a una carriera a Milano. Penso che però il difendere l'orgoglio di una città non passi solo attraverso il calcio. Mi rendo conto che questa cosa è molto sentita, è passione. Io guardo e tifono anche il Napoli durante l'anno. Due volte all'anno vado in conclave da solo a vedere le partite, l'ultimo scontro non ho quasi neanche esultato al gol di Zazza perché comunque c'erano i parenti che mi aspettavano al piano di sopra. Non vorrei che mi rimproverassero gli ascoltatori perché sto parlando di pallone. Torniamo alle cose serie. Ma lei conosce benissimo Scampia, lei è a Scampia. Io abito a Chiaiano. Quindi la realtà di Napoli la conosce bene? Il mio primo approccio è stato nel 92 a Via dei Tribunali, nel centro storico di Napoli, dalle suore di Madre Teresa di Calcutta. Ho partecipato a un campo estivo con i bambini di Forcelle e Fontanelle. Noi portavamo i bambini al mare, a Lido Fusaro e poi la sera ci trovavamo con le realtà sociali che lavoravano nei territori, come lei sa, molto difficili quei due quartieri. La prima approccio è stata con una bambina di tre anni e mezzo, non dico il nome perché non bisogna dire in televisione, mi guardò e mi disse tu non sei Napoli, sei vero, tieni una faccia e cazzo. Mi disse proprio così, scusi il termine ma rende molto bene. E lei come l'ha presa? Molto bene perché mi si è a ridere, perché in effetti aveva ragione, io c'avevo un po' questa faccia troppo seria milanese. Poi col tempo questa bambina, la siamo conosciuti e dopo due settimane di campo mi ha invitato a casa sua al suo compleanno, una casa, un locale dove vivevano cinque persone. Però mi ha fatto molto effetto questa cosa dell'invito a casa sua perché quando un bambino, soprattutto di quei quartieri, ti invita a casa sua, ti fa vedere le foto della famiglia è perché hai conquistato la sua fiducia. Allora probabilmente avendo conquistato la fiducia di una bambina di Forcella probabilmente troppo milanese non le sono sembrato a questa bambina, nonostante il primo approccio. No, senta, è che durante questa campagna ha conquistato amicizie, simpatie, ha avuto sensazione di avere smosso le acque. Guardi, sono andato in molti mercati, nei quartieri, abbiamo chiamato Rinascita Tour, siamo andati nelle periferie dove abitiamo, io abito a Chiaiano. Le persone quando parlano con me hanno la percezione di parlare con una persona che abita e vive Napoli, cioè non con lo straniero. Ma lei non è uno straniero, lo so che lei vorrebbe che io dicessi che lei è emigrante, noi siamo l'emigrante, è arrivato il vero emigrante. Io non mi sento tale perché la mia è stata una scelta, purtroppo seriamente gli emigranti sono costretti ad andare via dal proprio paese, dalla propria città, sradicati dalle proprie radici. Io ho fatto una scelta, mi è costata perché anche io comunque avevo le radici a Monza, agli amici, la famiglia, gli affetti, ma ne avevo altre tanti qua. Io ho sposato mia moglie di Chiaiano, ci siamo conosciuti in quei famosi campi dalle suore di Mare Teresa, ci siamo frequentati per tanti anni come amici. Però io ho scelto prima di tutto Napoli, Napoli città. Io ho detto a mia moglie ti sposo e vengo a vivere a Napoli nello stesso momento. La signora è stata contenta? Contenta e incredula perché ha detto ma veramente? Faccio sì, sì, io ho chiesto il trasferimento, cercavano il mio profilo professionale, la mia azienda aveva una sede a Napoli, quindi ho liberato un posto, perché molti mi rimproverano di aver tolto un posto di lavoro qui a Napoli, ho liberato anche un posto di lavoro per chi voleva approfittarne di andare a Milano. Lei si è sacrificato parecchio per stare con noi. Non è un sacrificio, è una scelta di vita. Io ho sempre anteposto la vita, gli affetti alla carriera lavorativa. Ma è la filosofia del 5 Stelle? È la filosofia di Matteo Brambilla. Però lei con il sindaco De Magistris si è sfiorato, ha collaborato in qualche momento. Sì, dice bene, io De Magistris l'ho conosciuto e votato quando all'Europarlamento sono uno dei 500 mila che l'ha votato. Poi ci siamo conosciuti per il discorso Chiaiano, la discarica di Chiaiano, ho fatto fare a lui delle interrogazioni all'Europarlamento, anche su Bagnoli ha fatto un'interrogazione. Lui fa finta di non riconoscere dove è stato Brambilla in questi anni, ma lo sa bene dove ero, ero a lottare sul territorio, ho girato tutta la campagna con i comitati, l'associazione. Ma lui non riconosce? Fa finta di non riconoscere, perché lui è una persona che si fida soltanto di se stesso. Quindi lui ha creato tabula rasa, come si dice, ha creato il vuoto intorno a sé, molte persone che erano intorno a lui l'hanno abbandonato, adesso ha un carrozzone di 12 liste ed è irriconoscibile. Io stesso stento a riconoscerlo come la persona che io avevo messo all'Europarlamento per gestire i fondi europei. Però pensano molti, e qualche segnale c'è, che nel caso di Silvio andasse a un ballottaggio, voi votereste per De Magistris. Il Movimento 5 Stelle non darà indicazioni di voto. Non lo fece cinque anni fa, quando c'era il ballottaggio lettieri con De Magistris non darà indicazioni neanche adesso. Noi pensiamo che le persone e i cittadini che vanno a votare siano maturi e consapevoli di poter scegliere chi li rappresenta e rappresenta bene gli interessi della città. Quindi non saremo certo noi a fare... Il Movimento 5 Stelle fa due cose. Uno, non fa parentamenti con nessuno. E due, rinuncia ai finanziamenti pubblici. Questi sono i due capi saldi del Movimento 5 Stelle e anche a Napoli li terremo saldi. Il mio interesse verso la sua persona, indubbiamente eclettica, è strana perché uno che ci sceglie, noi del Sud, ci fa piacere. Andiamo ai suoi programmi. Io gli ho detto che Napoli ha 300 anni di progettazione, abbiamo pochissimo tempo. Da dove comincereste? Cominceremo da due cose che mancano. La prima è una figura che gestisca il discorso della mobilità, una figura che chiamano mobility manager nelle altre città italiane e europee. Cioè una figura che coordina il discorso della mobilità insieme a un'agenda e un'agenzia per la mobilità. Cosa che manca? Perché se io non organizzo il sistema trasporti, è inutile che io acquisti 10, 15 pullman in più se poi non riesco a fare una pianificazione dei trasporti, le infrastrutture eccetera. Poi sui rifiuti, aggiungo un cavallo di battaglia. Nel Movimento 5 Stelle fa parte la questione ambientale delle 5 Stelle del Movimento. Adesso stanno rilevando le balle da lì, da la terra dei fuori. Lì è un discorso molto lungo. Io volevo solo dire questo sui rifiuti. Il rifiuto è una materia che deve essere trattata come tale. Quindi bisogna prenderla, separarla e rivenderla. La materia prima e seconda che si ottiene dalla raccolta differenziata. Quindi cambiare il sistema. Cambiare il sistema e poi incentivare i cittadini con una tariffa puntuale. Io devo pagare per quello che produco in termini di rifiuto. Perché se io a Napoli produco, pro capite, un numero elevatissimo di chili e tonnellati di rifiuti, che non è paragonabile ad altre città come Milano, dove c'è un tenore di vita molto più alto e anche i soldi, un reddito pro capite che è il doppio di quello di Napoli, non si capisce come mai si producano così tanti rifiuti a Napoli. Allora c'è un problema di riduzione dei rifiuti che devo perseguire. Perché è inutile tutta la gestione fallimentare che c'è stata in questi anni. È perché si è pensato come gestire il rifiuto, ma non come ridurlo. Perché se io penso soltanto come gestirlo inseguendo un piano industriale, sto fallendo. Infatti c'è stato il fallimento della politica, ma non solo a Napoli, con quello che abbiamo visto, anche con delle inchieste, ma anche in tutta Italia. In tutta Italia c'è un problema rifiuti, perché viene gestito il rifiuto, non viene pensato come risorsa da recuperare. Allora si fanno le discariche, si fanno gli inceneritori, ma non si capisce che non bisogna produrre rifiuti. Allora bisogna che io, su quello che produco, ci sia scritto quanto costa, in termini ambientali, quella cosa che ho prodotto, in modo che chi ha realizzato questo cartone, per esempio, se non è riciclabile, chi l'ha fatto deve pagarlo, perché non si può smaltire, non si può riciclare. Se invece è riciclabile, deve essere premiato chi fa una cosa riciclabile. E questo è il cittadino che va a acquistare un prodotto, lo deve sapere, quanto è, si chiama zaino ecologico, del prodotto. Mi lasci sintetizzare, le carte del salumiere, lasciamo stare. Io sono l'unico che nelle salumerie chiede sempre la carta e non la vaschetta di plastica. Senta, io sono mortificato. Che viene bruciata. Sono mortificato, ma purtroppo il nostro tempo è volato via e lei ha tante cose da raccontare, mi perdonerà. Resta un minuto. È stato molto piacevole questa chiacchiera. È tutto suo. Un minuto per lei. Un minuto di appello, vuole che faccia? Faccia. Guardi, io ho solo un appello da fare. Io quando da cittadino dovevo andare a votare, guardavo solo una cosa. Chi non aveva messo manifesti è imbrattato la città. Allora sceglievo tra le persone che non avevano imbrattato la città. Sembra una cosa stupida. In realtà, già chi non ha rispetto del proprio quartiere, della propria città, imbrattandolo, per fini personali, forse, forse, quando verrà eletto non li farà gli interessi della città. Allora, il Movimento 5 Stelle non ha messo un manifesto per la città di Napoli, ha speso 8 mila euro per la campagna elettorale. Gli altri che si presentano candidati a sindaco hanno speso centinaia e centinaia di mila euro. Addirittura a Lettieri si parla di 4 milioni di euro di spese. Non rendi contate. Noi abbiamo rendi contato tutto. Noi ci presentiamo alla città con questa faccia e con i programmi. Noi ne abbiamo parlato solo di due dei principali punti. Ma siamo questo, non siamo altro. Noi ci metteremo a servizio della città. Io non ho velleità neanche quelli che sono in lista velleità di carriere politiche. Abbiamo la velleità di cercare di contribuire a migliorare e a rendere questi 300 anni di servizi di toglierne qualcuno. Diciamo 295. Vogliamo arrivare a 295 a fine mandato. Guardi che i 300 anni ne parlava Valenzi che è stato un buon sindaco. È stato un grande sindaco. io ho conosciuto la figlia che se posso dirlo in camera caritatis ha apprezzato molto Matteo Brambilla del 5 Stelle. Allora abbiamo parlato con Matteo Brambilla del Movimento 5 Stelle candidato sindaco per Napoli in bocca al lupa anche a lei giovane e generoso perché è venuto a trovarci per vivere insieme con noi. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.